Se provate in una bella giornata di sole a fare un giro per la nostra bella e verde cittadina, vi accorgerete che in alcuni tratti il verde è minacciosamente macchiato da piccole, si fa per dire macchie di colore. Il colore di cui parliamo non è quello del cielo o quello di un bel fiore, ma il nero dei rifiuti tecnologici, il grigio delle stampanti, il bianco dei sanitari e dei rifiuti edili, il blu dei bidoni. Il mio viaggio inizia dalla località scorza, qui si trova di tutto, dalle bottie di vetro e di plastica, ai televisori, a montagne di fazzoletti e preservativi usati. Forse coloro che non hanno voglia di smaltirli legalmente ed in modo corretto non si interessano a quali siano le cause sull'uomo e sulla natura. L'inquinamento altera gli ambienti dove l'uomo opera e dove seguono il loro ciclo vitale, piante e animali. Ciò determina alterazioni dell'equilibrio in ogni ecosistema tra specie vegetali e animali, compreso l'uomo. L'inquinamento del suolo è anche responsabile dei cambiamenti climatici, a volte così rilevanti da costituire un serio pericolo per la sopravvivenza dell'intero pianeta. La produzione dei rifiuti solidi può essere stimata ad oggi in Italia intorno ai 41 milioni di tonnellate. Ma torniamo al nostro paese. Risalendo la zona della scorza, troviamo ai bordi della strada altre macchie di colore, dove le mucche pascono allegramente brucando tra i rifiuti, le stesse mucche che poi serviranno il latte ai malcapitate allevatori. Ma è in località pietra della Madonna che gli pseudosmaltitori hanno dato il proprio meglio. Affacciandosi si possono notare frigoriferi, cassette di plastica, bidoni dal contenuto ignoto. Su uno di questi appare la scritta corrosive ed altri tipi di rifiuti. Inizio a chiedermi, forse troppo ingenuamente, come mai queste persone fanno tanta strada per gettare tali rifiuti? Forse non sanno che esiste un numero di telefono al quale ci si può rivolgere per farli ritirare. Al di là dei miei pensieri, passiamo oltre. Mi sposto in via consolazione. Qui il forte odore che è nell'aria si mescola a quello dei rifiuti in decomposizione. Anche qui trovo di tutto. Busse di plastica, neon, copertioni di auto e una busta di solfato ammonico usato come concime comunemente, ma in questo caso c'è poco da concimare. Passiamo in via misericordia, dove dovrebbe sorgere l'oesia ecologica. Qui qualcuno ha pensato di fare un favore ed ha già lasciato alcuni rifiuti come un microonde, vari monitor, copertoni di auto ed altro. L'ultima tappa ci porta poi in località Casselluccia. Le immagini si commentano da sole. Questa panoramica non vuole essere un attacco a nessuno in particolare, ma solo un'informazione al cittadino. Speriamo solo in due cose, che chi di dovere sappia come risolvere la situazione al più presto e chi getta i rifiuti in natura sappia a cosa va incontro. Per SoloFrogi TV è tutto, Carmine Lusso.